Vigilar è vigilanza privata di urna e notturna. È monitoraggio e pronto intervento su allarme H24 e 7 giorni su 7. Vigilar è installazione di impianti di allarme in abitazioni, aziende e negli esercizi commerciali. È vigilanza privata a casa, per te e la tua famiglia, e nello stabilimento industriale per difenderti dai furti. È la vigilanza vicina alle persone, al territorio. Vigilar è la vigilanza con il cliente al centro. Affidati a Vigilar. Vigilar arriva prima.